le notte fanno mettere dentro la fine di ritardo ma non so che sono di ritardo no no, dove siamo di ritardo le fanno mettere dentro l'inserito dei fisi ospedaliere una cosa, dell'intervento dopo una settimana, ma no, la chiudono, quello che è rimasto è stato un'amorità, non mi voglio non mi voglio, non mi voglio, non c'è l'allosato quindi, sta al vicino delle città fanno portare anche, vedi che si lo scopre devi fare le sedi no, non è scopo l'altro, è un sacco io quando voglio stare a casa non è inquinato non ha l'allosato nessuno vai lì al finitero, compra i fiori non so, è rumino ma se chi, a far pagodio è più abbastanza e si fa a 3 euro a mano non me, non me, non me, non me, non me, non me non me, non me, non me 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 non me, non me, non... Grazie.